A Poi a Piazza, che non lo può prendere, a Caccia non c'è, in che posta ne facendo, a Villa, guarda, San Marco, San Marino, come un messaggio, in che stasmi sono una faccia, solle criminali, qui rinani, criminali, tutti i tani, corrinani, guardate la televisione, sono tutti uguali, si programma, non sei ghiagno, pure si mora a zanzano, che ferdere, ma Grazie a tutti.